Oggi quattro quadri al prezzo de' uno, ma non te preoccupa che faccio breve. Stamo in zona Venezia, città lagunare, portuale e traffichina, tra metà 400 e metà 500. E vedemio come cambiano i pali d'artare. A più antica è un politico vecchio stile, che già l'hanno visti questi qua fatti a scomparti, tipo carte da gioco, che ha Madonna al centro e lisanti de' qua e de' là, belli, ordinati, ognuno drento al riquadro suo, come che fosse uno schedario, fondo oro e merletto tardo codico. Ai primi del secolo dopo vedemio che la cornice s'allarga, e lo spazio diventa uno solo, e gli santi piano piano si avvicinano. A Madonna sale un gradino più in arto, perché vabbè che amo aperte le frontiere, però statevenne al posto vostro e non ve scordate chi so io. E i santi si mettono in posa, tipo foto de' classe, metà de' qua, metà de' là, shorti ma non troppo, rispettosamente in piedi, anche se un po' se ponno move, e comunque sempre in ordine e simmetria. Bellini ti piazza Trento uno spazio prospettico, bello rinascimentale, tipo chiesa. E il giorgione osa un po' de' più, ti mette sì in posa, ma come a una specie di terrazzino, aperto sullo sforno, che se vede il paesaggio. E come si sentissimo che sti santi vanno uscì, se so stufate le sta in piedi al lato madonna, a regge stendardi, galici o corone, vanno esse liberi. E finalmente ce riescano. A pala d'artare si trasforma in sacra conversazione, tipo qui Parmer vecchio, che non è nato vecchio ma si chiama così per distingolo da Parmer giovane. Che finalmente a sti santi gli dà il pomeriggio libero, i porta in campagna, i fa metta a sede, come che stessero a fa' un sacro picche nicche. E a madonna gli fa' Giovanni Battista, bada, chi ha preparato i panini e tutto, chi devo ringraziare, chi paga. E lui gli indica i donatori, che manco a di' mo' se mettano a sede pure loro, e se fanno sto pranzo al sacco, con Maria, Santi Vari e Bambin Gesù, a tu per tu, ar fresco e in sciortezza.